Sì, siamo collegati in diretta, non fanno entrare e uscire nessuno, le autorità locali hanno isolato il paese di Collina Nuova, qualcuno addirittura parla di un'epidemia da circoscrivere per evitare contagi esterni, tre residenti sarebbero sotto osservazione nel vecchio ospedale militare, poi voci che parlano di luci, di migliaia di luci che si rincorrono come saette nella notte sopra il cielo di Collina Nuova, stanno girando delle foto relative a strane forme comparse nei campi, un attimo ci stanno chiedendo di interrompere la diretta, vogliono che chiudiamo la comunicazione, non potete fermare! Grazie a tutti!